Buongiorno a tutti, oggi questo campanile suonare di legno, mi ha cominciato 5 campanile e 4, si ascolto il solo per la sonata messa alle 8 e mezzo dal campanile di legno e quindi fra il tempo lo faccio vedere, così sono i campani domenitani e la piccola, adesso suonerò di seta la sonata messa alle 8 e mezzo dal campanile di legno, quindi a presto la loro campanile, oggi ascolto a tutti, ciao Grazie a tutti 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.